verde mediterraneo un programma televisivo per conoscere e amare la nostra agricoltura amici di verde mediterraneo eccoci giunti alla quarantesima trasmissione della nostra rubrica di agricoltura allevamento alimentazione e ambiente noi ci fermeremo qui per questo secondo ciclo per prepararci riorganizzarci e ripartiremo la prossima stagione autunno in ottobre ma naturalmente noi non ci lasceremo perché il nostro spazio sarà occupato con una simpaticissima rubrica che vi spiegheremo alla fine di questa nostra trasmissione in questa puntata abbiamo voluto rievocare un po le immagini più significative di tutta la nostra del nostro viaggio all'interno del mondo dell'agricoltura d'avanguardia quindi una puntata che abbiamo definito zolle di verde mediterraneo sicuramente vale la pena seguirla perché le immagini sono veramente suggestive e in questa puntata che abbiamo fatto un po' di più Sì. For the night A lonesia A lonesia A lonesia A lonesia A lonesia A lonesia